Professor Soresi, come oncopneumologo, ha sviluppato un'associazione con diverse finalità di prevenzione. Cosa ci può dire oggi della sua esperienza come responsabile scientifico? Personalmente mi sono dimesso da mi guarda dalla oncopneumologia nel 98, dopo 30 anni di duro lavoro interfacciato col tumore polmonare. Dal 98 ho sentito proprio l'esigenza di fondare un'associazione correlata a tutti i danni da fumo, finalizzata alla prevenzione in assoluto del tumore polmonare e anche dei disturbi funzionali che il fumo induce. Questa esperienza ha dato ormai da 10 anni, abbiamo fatto numerosi convegni, numerosi eventi di carattere divulgativo, di carattere culturale, educazionali, mirati proprio a far capire alla gente, ad esempio, l'importanza oggi per un fumatore dopo 30 anni di fumo di farsi un'attacca spirale che può dare in maniera nuova il danno, leggere in maniera nuova il danno morfologico da fumo di sigaretta e identificare dei tumori appena nati sotto il centimetro come dimensioni, centimetro per alto non visto dalla lastra del torace. Su questa grossa esperienza legata, come vi dicevo, ai danni biologici correlati al fumo, ho ampliato un po' il mio interesse al concetto della dipendenza biologica dal fumo e la dipendenza biologica mi ha aperto il mondo della neurobiologia. La neurobiologia è tutto un nuovo sviluppo di neuroscienze che ci sta dando informazioni sul nostro cervello che sono veramente nuove e fortemente interessanti e su cui ho sentito l'esigenza di aprire un'altra area divulgativa. Assieme agli amici, al Presidente dell'Associazione, il Dottor Mario Longo, assieme al Senatore Fabio Rizzi, abbiamo fondato questa nuova associazione dal titolo 8 e dal nome Octopus Brain. Octopus Brain ha come finalità di occuparsi e sviluppare educazionali convegni e organizzare eventi che spieghino in maniera divulgativa e semplice queste novità biologiche e come sia importante essere attenti ai primissimi anni di vita per poter correggere molto precocemente quello che potrebbe essere un danno poi di tipo biologico e psicologico. Octopus Brain quindi ha un'ambizione importante che è quella di sviluppare questi nuovi contenuti culturali e darli proprio in modo semplice, proporli in modo semplice nelle scuole e negli asili. Il convegno che abbiamo fatto, il primo grosso convegno dell'ottobre 2010, va proprio in questa direzione. Il titolo è Perché dobbiamo amare i bambini. Nasce questo titolo da un bellissimo libro di una psicanalista di Oxford che si chiama Sue Gerard, che abbiamo intervistato ad Oxford e su cui abbiamo fatto un filmato e lo sviluppo del convegno va proprio nella direzione di dare cultura a questi concetti di come i primi due anni e mezzo di vita, cioè gli ultimi sei mesi di vita fetale, i primi due anni di vita neonatale, siano fondamentali per la costruzione del cendello. In questi due anni e mezzo esiste poi un'area definita memoria implicita, a cui nessun accesso e su cui appunto si può entrare con la carezza, con l'amore, con una consapevolezza di star costruendo qualcosa di importante che renderà poi l'individuo adatto ad affrontare il mondo in maniera più o meno equilibrata. Il convegno è stato registrato completamente, è stato poi tradotto in un decreto razionale e sul sito di Octopus, che è www.octopusbrain, potete già vedere parzialmente le relazioni dei vari convenuti. Altri programmi di Octopus vanno sempre nel concetto della dipendenza biologica, un prossimo evento su cui stiamo organizzando alcuni sinergismi è proprio la dipendenza biologica, in senso lato oggi come si può interpretare la dipendenza biologica, in senso specifico il titolo potrebbe essere da vecchie a nuove dipendenze, dalla nicotina a Facebook, voi sapete che anche il mondo di internet è diventato un mondo fortemente attrattivo per il craving, cioè per la dipendenza, per cui su questa linea la nostra idea è di fare un convegno che verrà tradotto in educazionale. Altre iniziative le stiamo studiando, altri sinergismi con altre associazioni verranno presi in atto e vi teremo informati su questo. Grazie.